Il nostro amico Franco ha sempre tantissime cose da mostrarci e c'è una bellissima novità. Sì, allora quest'anno ho portato un qualcosa di molto particolare, un qualcosa che addirittura viene da oltreoceano. È un'idea diciamo un po' americana, però chiaramente io mi sono un po' ispirato al nostro stile italiano e ho fatto un qualcosa di molto particolare. Sono le Touring Bag, sono borse per moto touring, diciamo che ci ho perso tantissimo tempo perché volevo presentare un prodotto molto particolare. Sono queste qui, sono appunto per le Arlene Davidson Touring, particolarmente perché hanno il posteriore in vetro resina. Ho adattato la parte posteriore e la parte inferiore con l'incavo che va sul supporto originale di queste moto. Poi la parte anteriore chiaramente l'ho disegnata con lo stile italiano che è questo qui, con delle chiusure anteriori, con l'apertura a sgancio rapido. E ho realizzato delle borse da oltre 45 litri. Per gli amanti appunto di questa moto e per chi apprezza l'accessorio in cuoio, diciamo che sono forse il primo ad aver realizzato, addirittura mi dicono, in Europa questo tipo di accessorio. E poi ne ho visto un altro molto carino, questa sella. Adesso ci stiamo chiaramente sotto richiesta da parte dei nostri clienti, stiamo realizzando tutta una serie di selle, sempre per tutta la serie Arlene Davidson, questo genere con colori su richiesta da parte dei nostri clienti. Facciamo realizzare anche le strutture in vetro resina da un'azienda siciliana, molto nota anche. A me piace molto, Franco te lo devo dire, questa borsa alla Capitana America, no? Quasi sono i supereroi praticamente di mezzo. Allora sì, diciamo che l'idea nasce un po', ecco, te lo dicevo poc'anzi, da mio figlio che ama Capitana America. E poi sentendo un po' anche persone grandi che sono appassionate di questo genere, ho voluto creare dei modelli con i colori e con i disegni appunto di Capitana America. Questa cosa qui l'ho presa un po' a scherzo, però devo dire la verità, sta diventando seria, nel senso che mi stanno chiedendo anche di ispirarmi su altri appunto supereroi. Intanto sono partito con questi modelli, poi dico, man mano mi arrivano le richieste sicuramente troveremo altre ispirazioni. Insomma qui abbiamo tutto per la necessità del motociclista. Non solo, ma anche per lo stile del motociclista.